Dopo le scuole chiuse ormai da sabato, Pescara, terza città in Italia per numero di contagi, recepisce l'ordinanza del presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che vieta l'ingresso e l'uscita dal comune, se non per motivi di stretta necessità, salute o lavoro. Ma l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Carlo Masci, si appresta anche a varare un'ordinanza che vieti di sostare all'esterno dei locali, sotto accusa la Movida del fine settimana con le immagini di Pescara che hanno fatto il giro della nazione per gli assembramenti proprio fuori dei locali. Noi con il questore e con il prefetto stiamo organizzando una rete di protezione dell'area centrale con le forze dell'ordine che ci saranno venerdì e sabato, perché nel momento in cui le strade e le piazze dovesse riempirsi, si bloccheranno all'esterno le persone e dobbiamo fare in modo che non si verifichino quelle situazioni a cui abbiamo assistito sabato scorso, con aggregazioni nelle zone centrali di Pescara esageratissime. Però, essendo in zona gialla, le persone sono uscite da casa e Pescara è un punto di attrazione incredibile. Quindi questo provvedimento di Marsilio, del Presidente Marsilio, che impedisce lo spostamento tra le città dell'area metropolitana, io lo considero un provvedimento buono e giusto. L'ordinanza di Marsilio però ha ricevuto anche delle critiche, sono quelle del Sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, che contesta la gestione dell'emergenza. In zona arancione, con sfumature di giallo, di rosso, di bordeaux, no, non è una barzelletta, è proprio quello che sta succedendo. Una gran confusione nella gestione di questa pandemia da parte della Regione Abruzzo, lo dico da tempo. Purtroppo, quando ci sono momenti come questi, vanno prese decisioni anche forti, anche più restrittive. Però bisogna sostenerle e portarle avanti con convinzione. Questo modo di fare crea solo disagio, crea confusione nei cittadini, crea confusione in tutte quelle aziende commerciali che un giorno possono stare aperte, il giorno dopo devono stare chiuse, possono ordinare la merce oppure non la possono ordinare. Non è così che si gestisce una pandemia.